bene, buongiorno ragazzi e benvenuti alla nona lezione oggi continuiamo l'accenno che abbiamo dato ieri alla teoria della complessità ricordiamoci che stiamo facendo stiamo cercando di formulare un tempo di calcolo che sia una sorta di predizione di quanto tempo impiegherà una soluzione algoritmica per risolvere un dato problema tempo che però non misuriamo in secondi perché sarebbe funzione anche del computer che utilizziamo dell'implementazione e di altri dettagli che vogliamo ignorare ma deve essere un tempo funzione del numero di passi di calcolo in funzione della dimensione dei dati quindi se io ho un miliardo di dati e la complessità, il tempo di calcolo è dell'ordine del quadrato del numero di dati in ingresso il quadrato di un miliardo è un numero di passi di calcolo già molto elevato che mi fa capire che il mio algoritmo per quanto sarà veloce il mio computer comunque impiega un certo tempo, ha una certa complessità viceversa se invece fosse stato logaritmo di n, logaritmo di un miliardo e 6 6 passi di calcolo a voi e a te che il computer non li fa in millisecondi quindi è possibile predire il tempo che impiegherà un'esecuzione di un algoritmo se abbiamo una formulazione un po' più concettuale, un po' più teorica di quello che è il tempo di calcolo appunto in funzione dei passi di calcolo quindi quello che eravamo arrivati a fare ieri è dire ok se ogni passo di calcolo per noi lo consideriamo come unità quindi la nostra unità di misura è il passo di calcolo e se i passi di calcolo per noi sono tutti uguali e addirittura se sono accorpabili per esempio una condizione bulliana composta oppure una operazione aritmetica composta allora contare i passi di calcolo significa per lo più contare le righe di codice ma dobbiamo stare attenti quando ci sono dei cicli perché ovviamente lì avvengono per esempio in questo caso questa condizione viene testata n volte perché c'è un ciclo che parte da zero e finisce ad n quindi dobbiamo comunque saper interpretare il codice dobbiamo saperlo leggere per poter calcolare la complessità computazionale di questi algoritmi quindi ieri abbiamo calcolato la complessità di un ciclo semplice e la complessità di un ciclo annidato e non è una sorpresa che nel caso di ciclo semplice la complessità sia una cosa che sia funzione di n n senza esponente a meno, esponente 1 mentre nel caso di ciclo annidato n con il quadrato questo diciamo sarà una regola più o meno generale se vediamo un ciclo annidato molto probabilmente la complessità è quadratica se vediamo un ciclo dentro un ciclo dentro un ciclo quindi un doppio annidamento allora la complessità sarà cubica e così via e così via comunque bisogna sempre entrare nel codice e vederlo non basta solo a occhio dopo un po' ci si fa l'occhio però è sempre meglio le prime volte analizzare il codice per vedere come stiamo facendo facciamo un altro esempio perché c'è un concetto che non abbiamo ancora introdotto ieri mentre ieri abbiamo detto vabbè qui la complessità è analiticamente proprio 4 n quadro più 4 n più 2 perché abbiamo contato il numero di confronti di assegnazioni, di if, di s cioè abbiamo contato tutto quello che c'è da contare c'è un problema però che per quanto noi abbiamo detto ieri vogliamo essere indipendenti dai dati non dalla grandezza dei dati ma da quali dati ci sono cioè vogliamo essere indipendenti dalla fortuna dal caso siamo fortunati, siamo sfortunati eccetera in realtà questo discorso va un attimo approfondito perché noi come ingegneri dobbiamo porci sempre questo problema immaginate gli ingegneri civili che costruiscono un ponte chi costruisce un ponte non può dire io me ne frego del contesto deve comunque dire che succede se soffia il vento ad una certa velocità che magari entra l'oscillazione del ponte va a soliticare la frequenza di ridondanza la frequenza di risonanza del ponte se qualcuno di voi conosce l'esempio di cui mi sto riferendo a cui mi sto riferendo in quel caso il ponte è crollato un ponte che è iniziato a oscillare alla frequenza di risonanza questo ha fatto sì che l'oscillazione grazie anche al vento che soffiava ad una certa velocità andasse avanti sempre di più quindi un sistema autoalimentante alla fine il ponte è crollato quindi noi dobbiamo porci e come anche la domanda di ma che succede se questo dobbiamo porcelo quindi analizziamo appunto la casistica utilizziamo un esempio semplice la ricerca di un elemento in un vettore non ordinato in questo caso quindi questo è un vettore una sequenza di 14 elementi di numeri interi ora noi abbiamo fatto la ricerca abbiamo fatto la ricerca ricorsiva non mi ricordo se abbiamo fatto tra gli esempi ricorsivi però comunque la ricerca utilizzando l'approccio iterativo è semplicemente per ogni elemento che sta nell'insieme se l'hai trovato se l'elemento è quello l'hai trovato altrimenti esituisci falso ne approfitto per farvi notare una cosa il codice che vediamo in questa parte modulo C del corso non è un codice C++ ovviamente in codice C++ io non posso scrivere forice I con il simbolo di appartenenza matematica questo perché gli algoritmi non dipendono dal codice C++ Java Python che ci sia cioè la complessità di un algoritmo è sempre la stessa certo se poi lo implemento in C++ o in Java avrò sicuramente un differente un differente tempo di esecuzione ma non passerò da secoli a millesecondi solo perché ho scelto C++ quindi noi in questo modulo C del corso non ci interessa più il linguaggio quindi usiamo uno pseudolinguaggio uno pseudocodice quindi qualcosa che si vi ricorda il ciclo di C++ ma in realtà insomma fuoricce I appartenente a è qualcosa che noi comunque riusciamo a leggere a capire ma non è importante che sia sintatticamente aderente ad uno specifico linguaggio chiusa parentesi bene allora questo è il codice lo pseudocodice a questo punto però vedete dobbiamo farci delle domande se l'elemento da cercare è 6 io lo trovo dopo quanti iterazioni 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi il costo il numero di passi di calcolo per arrivare a quell'elemento è 8 7 più 1 8 ma se l'elemento non fosse presente quale sarebbe il costo? il costo sarebbe dovuto all'attraversamento dell'intera sequenza io lo devo cercare in tutta la sequenza quindi se l'elemento non è presente il costo è la grandezza della sequenza cioè n la dimensione dei dati di ingresso e quindi uno dice sì ok 8 n che differenza c'è tra 8 n? e beh se n è un miliardo la differenza enorme tra 8 e un miliardo ovviamente la differenza c'è quindi dove voglio arrivare? voglio arrivare a dire che quando noi diciamo che ce ne freghiamo del contesto cioè dei particolari dati di ingresso non era ieri abbiamo fatto questa semplificazione ma adesso dobbiamo un attimo decidere che cosa vogliamo fare da grandi a noi cosa interessa nell'analisi della complessità degli algoritmi? ci interessa il caso migliore? per esempio nel caso della ricerca di un elemento il caso migliore è in cui è quello in cui nella ricerca sequenziale l'elemento si trova in prima posizione quindi il caso migliore ha complessità cioè il numero di passi di calcolo pari a 1 il caso peggiore è quello in cui l'elemento non è stato trovato perché non c'è e quindi devo attraversare tutta la sequenza caso peggiore t worst è uguale a n passi di calcolo in questo caso pari al numero di elementi e poi nel mezzo possiamo fare un ragionamento di tipo statistico almeno in questo caso possiamo farlo non sempre potremmo farlo in maniera agevole ovvero che succede in media? in media significa appunto dobbiamo usare la statistica quindi dobbiamo ipotizzare che il nostro vettore contiene elementi distribuiti in maniera statisticamente uniforme cioè non c'è una concentrazione dei valori in un determinato valore non c'è una gaussiana che si concentra su una determinata media quindi la distribuzione è uniforme se la distribuzione è uniforme da calcolo delle probabilità sappiamo che la densità di probabilità di una distribuzione uniforme ci dà la misura di probabilità che è 1 su il numero di elementi presenti quindi 1 su n è la probabilità che l'elemento che io sto cercando sia presente nella posizione i trovata questo perché gli elementi sono equamente distribuiti quindi 1 su n beh questa è la probabilità per trovare l'elemento che l'elemento da cercare sia in posizione i il costo per arrivare a quella posizione i è banalmente in questo caso ricerca sequenziale i iterazioni per arrivarci e allora per fare il costo medio cosa vado a fare vado a sommare tutti i costi del trovare gli elementi in quelle posizioni pesati per le loro rispettive probabilità che davvero io trovi elementi in quella posizione quindi cosa sto facendo ragazzi il caso medio non fa altro che considerare tutti i casi possibili e li pesa secondo la loro probabilità quindi è la sommatoria di i per 1 su n ora questa è una sommatoria nota che fa fa n lo portiamo fuori dalla sommatoria perché l'argomento è i la sommatoria di i da 0 a n meno 1 è una sommatoria nota che fa n per n più 1 mezzi si semplifica l'n e alla fine viene n più 1 mezzi che cosa abbiamo scoperto una cosa che ci potevamo arrivare anche prima che se la distribuzione è equamente è uniforme il caso medio nel caso medio mediamente per trovare un elemento si fanno n mezzi circa passi di caccolo perché una volta sta a destra oppure non sta a destra non c'è quindi sta dopo destra come se fosse nel postultimo elemento una volta sta a sinistra una volta sta un po' più a destra una volta sta un po' più a sinistra ragazzi alla fine mediamente noi comunque una metà del vettore dobbiamo analizzarlo mediamente questo quindi è il ragionamento ora però torniamo alla domanda di prima noi che cosa vogliamo fare da grandi stiamo progettando un ponte dobbiamo capire quanto è robusto questo ponte analizziamo il caso medio il caso migliore o il caso peggiore sicuramente non analizziamo il caso migliore perché non analizziamo il caso migliore non sempre non sto dicendo che sempre si fa così sto dicendo che l'enfasi nostra dei progettisti di algoritmi è prettamente sul caso peggiore sul caso peggiore perché non vogliamo che fonte crolli se stiamo facendo la ricerca su google anche se quello è un esempio in cui il caso peggiore non funziona molto bene se stiamo facendo ecco per esempio se stiamo facendo stiamo sviluppando l'algoritmo di navigazione di un navigatore ok quindi c'è un navigatore che sta montato sulla macchina oppure l'avete comprato esterno attaccato alla parabrezza e voi state in macchina e il navigatore deve connettersi in tempo reale al traffico e dirvi di cambiare strada perché perché c'è traffico state su un accordo anulare a me è capitato devi cambiare strada altrimenti non arrivi più a destinazione nel tempo stabilito ora immaginate che questo navigatore abbia un algoritmo in cui il caso peggiore implica che il tempo di esecuzione poi sostanzialmente in secondi si può predire impiegherà che ne sono tre minuti per fare il percorso alternativo ora però voi state vicino alla deviazione che vi consente di prendere quel percorso alternativo ovviamente l'algoritmo impiega tre minuti voi sopassate la svolta e quello dice avresti dovuto girare di lì per prendere il percorso alternativo però io ci ho messo troppo tempo e quindi non può più fare la deviazione capitano se no di poi ora a voi piacerebbe un navigatore che si comporta così quindi basterebbe anche un solo di questi casi cioè basterebbe che il caso peggiore si verifichi anche una sola volta in questo contesto voi il navigatore lo portate di nuovo dal negoziante lo restituite su Amazon dove sia perché non vi interessa più quel prodotto quindi il caso peggiore è importante per gli algoritmi perché il caso peggiore in questo caso innervosisce l'utente in altri casi il caso peggiore può determinare una rottura un guasto immaginate se state pilotando non necessariamente uno shuttle che non ci sono più se state per esempio state sviluppando come uno dei nostri ex tesisti che ora lavora nella FSA un algoritmo per la guida autonoma beh nel caso peggiore ci mette troppo tempo e invece di decidere di frenare perché vede un pedone va dritto lo investe questo non può avvenire nemmeno una volta quindi il caso peggiore in molti casi in molti contesti è di reale interesse per lo sviluppatore non ci possiamo permettere che il caso peggiore sia un caso che porti a un infortunio un decesso o una rottura altro esempio è quello dell'ABS l'ABS quando entra in funzione il l'airbag sono tutti casi in cui il tempo di esecuzione deve essere nel caso peggiore più basso di quello che determinerebbe un decesso o un incidente quindi ci dobbiamo concentrare sul caso peggiore per dire se il caso peggiore è entro i limiti progettuali allora male che va io ci sto dentro questi limiti questo significa analisi del caso peggiore mi metto nel caso peggiore possibile se le cose vanno comunque bene nel contesto del progetto pur sviluppandosi il caso peggiore io sono contento quindi a questo punto il caso medio diventa in questi contesti di scarso interesse ci sono contesti in cui il caso peggiore è di reale interesse perché non vogliamo incidenti però ci sono anche contesti in cui il caso medio potrebbe essere comunque accettabile come analisi ad esempio Google vi è mai capitato di fare una ricerca su Google e in quel momento in quell'istante chissà come mai e non perché la vostra connessione ha avuto una defiance ci ha messo di più il motore di ricerca a me è capitato e penso anche a voi ci ha messo anziché i soliti 20, 30, 40, 400 no 2, 3, 400 millisecondi ci ha messo 4, 5 secondi solo quella volta e voi dite vabbè l'avete perdonato immagino non è che uno sta a dire ah Google ci ha messo 5 secondi non uso più Google in quello quello è un caso in cui il caso peggiore insomma non è tutta sta tragedia sì ci ha messo 5 secondi una volta ogni tanto lo perdono vado avanti in media però mi interessa che Google sia veloce come potere di ricerca ecco quello è un caso in cui ci interessa l'analisi del caso medio cioè mediamente deve essere veloce se una o due volte non lo è pazienza ma se io sto pilotando l'airbag o la guida autonoma o l'ABS non va bene che in uno o due casi ci mette troppo tempo perché in quei casi muoiono delle persone capito la differenza? quindi a noi interessano due tipi di analisi il caso peggiore e il caso medio in particolare il caso peggiore perché il caso peggiore è quello che ci mette al riparo in tutti i possibili contesti se noi ottimizziamo il caso peggiore stiamo ottimizzando praticamente tutti quanti i casi ci saranno alcuni alcuni contesti che vedremo nel resto del corso in cui ci interesserà di più il caso medio rispetto al caso peggiore però saranno dei casi specifici ok? bene quindi diamo una definizione formale di caso migliore e di caso peggiore sia T la complessità computazionale di un algoritmo su un'istanza IN quindi adesso sì che stiamo considerando i dati quindi non solo adesso abbiamo la numerosità dei dati ma abbiamo una particolare istanza del problema nel caso del vettore per esempio un vettore ordinato non ordinato ordinato in un certo modo oppure non ordinato in cui l'elemento da cercare sta in prima posizione oppure sta in ultima oppure non ci sta quindi una delle possibili istanze del problema sia T la complessità computazionale di una di queste possibili istanze allora noi definiamo la complessità T del caso migliore come T best ovvero la più piccola complessità cioè il numero più piccolo di casi di passi di calcolo su tutte le possibili istanze del problema ragazzi questa è soltanto una formulazione una formalizzazione matematica di quello che abbiamo appena detto di tutti i possibili casi prendi quello più conveniente ovvero quello con il minor numero di passi di calcolo nel primo caso nel precedente algoritmo era il caso in cui l'elemento sta in prima posizione quella sa quella è la complessità del caso migliore e quindi in questo caso è il minimo tra tutte le istanze è il minimo della complessità tra tutte le istanze del problema il caso peggiore è il duale di tutte le possibili istanze prendi quella che massimizza il tempo di esecuzione il tempo di calcolo quindi nel caso precedente è quella in cui l'elemento non c'è nel vettore e quindi bisogna fare tutti fare tutte le iterazioni in questo caso la complessità computazionale nel caso peggiore è 13 cioè n se non c'è è proprio uguale ad n ok quindi il caso migliore è il caso peggiore allora il caso medio come facciamo a formalizzarlo come abbiamo fatto nei casi migliore e peggiore purtroppo ci serve un ulteriore elemento non basta avere le istanze del problema ma ci serve anche la probabilità con cui quelle istanze si verificano cioè ci serve un'analisi statistica delle istanze del problema e questo non è sempre facile ottenere nel caso precedente l'abbiamo ottenuto perché abbiamo detto ipotizziamo una distribuzione uniforme ma ci sono algoritmi tanto complessi che non è non è semplice fare una una un'analisi statistica quindi questo serve sul posto di avere questa analisi statistica che è stata già fatta allora pesiamo tutte le istanze per le rispettive probabilità e il nostro tempo complessità di caso medio è la somma pesata per le probabilità delle complessità di tutte le istanze del problema ovviamente come dicevo questo non è sempre possibile però formalmente questo significa caso medio significa effettuare un'analisi statistica dell'istanze del problema ok quindi anche google avrà fatto la loro analisi statistica per capire questi utenti che cavolo cercano ovviamente sappiamo quali sono le parole più ricercate in questo momento google sa che le parole più ricercate sono covid coronavirus mascherina eccetera e quindi nella sua analisi del caso medio ovviamente la probabilità che l'utente cerchi queste parole chiave è ovviamente molto maggiore rispetto alla probabilità che l'utente cerchi altre parole chiave ok facciamo adesso un altro esempio sempre con caso migliore peggiore e caso medio ed è un esempio che è proprio quello che abbiamo visto di recente la ricerca dicotomica la ricerca binaria in un array ordinato questa è la versione iterativa perché quella che vi presento è la versione iterativa perché lo vedremo la prossima lezione non questa gli algoritmi ricorsivi e gli algoritmi ricorsivi ragazzi voi non avete cicli generalmente la chiamata abbiamo visto no abbiamo fatto gli algoritmi ricorsivi quindi come facciamo a scrivere la complessità non è facile così come non è facile capire la ricorsione non è facile calcolare la complessità computazionale di un algoritmo ricorsivo quindi mettiamo da parte per adesso la ricerca binaria ricorsiva perché quella necessiterà di un altro tipo di analisi e affrontiamo l'analisi della ricerca binaria versione iterativa ve la ricordo quindi un array di dimensione L bisogna cercare un elemento X mi servono due indici iniziale e finale entro cui fare questa ricerca perché di volta in volta dimezzerò il range e dirò finché vai avanti finché non l'hai trovato nel mezzo quindi cercalo nel mezzo e infatti quando l'hai trovato lui esce dal ciclo e dice l'ho trovato finché non l'hai trovato vai nel mezzo calcola l'indice di metà se l'elemento da cercare sta a destra allora no se l'elemento da cercare sta a sinistra allora vai a sinistra aggiornando l'indice di destra altrimenti vai a destra aggiornando l'indice di sinistra se questi indici si sono swappati si sono scambiati allora restituisci non l'hai trovato quindi questo algoritmo va avanti o finché arriva un punto in cui si swappano gli indici e allora dice non l'ho trovato perché non c'è oppure va avanti finché non si verifica la condizione che l'elemento sta nel mezzo nel qual caso esce dal ciclo e dice che l'ha trovato questa è la nostra ricerca la nostra ricerca iterativa ora vedete questo è uno di quei casi in cui non basta applicare meccanicamente le regole che vi ho detto prima cioè se io vedo un ciclo e vabbè ragazzi un ciclo sarà quanto sarà n quindi la complessità è t di n sarà t di n uguale qualcosa che moltiplica n non è vero dobbiamo ragionarci dobbiamo guardarlo il codice dobbiamo capire che cosa sta facendo questo codice e quindi come facciamo a capirlo beh intanto l'analisi del caso migliore banalmente è sempre la stessa nel caso migliore l'elemento sta nel mezzo quindi lo trovo subito e allora la complessità è uno magari non è uno magari è uno più uno più due e tre vabbè ragazzi ma è sempre uno due tre è un numero piccolo nel caso in cui invece l'elemento non c'è quindi caso peggiore in realtà il caso peggiore è sia che l'elemento non c'è ossia che l'elemento si trova in una posizione tale che devo fare tutti i dimenzamenti possibili per arrivare all'elemento da cercare che significa fare tutti i dimenzamenti possibili significa che ogni volta che io considero il mio range di ricerca faccio un'operazione di accesso per confrontarlo nel mezzo poi un'altra operazione per calcolare l'indice di metà siamo a due e poi devo assegnare all'indice di destra di sinistra devo aggiornarli per dire vado a sinistra vado a destra e faccio un'altra iterazione quindi la domanda che vi faccio quante iterazioni davvero svolge questo ciclo la risposta non è n perché ogni volta io smezzo quindi significa che la dimensione delle sotto arri su cui si provvede si fa la ricerca e si dimezza ad ogni confronto quindi all'inizio io ho n elementi accedo nel mezzo decido di andare a sinistra a destra e adesso ne ho n mezzi quindi nella seconda iterazione del ciclo io ho n mezzi elementi faccio l'accesso nel mezzo aggiorno gli indici divido per due e ho n quarti quindi significa che alla iesima iterazione del ciclo io ho n diviso due alla i elementi nel mio sotto arri all'inizio ne ho n iterazione numero zero n diviso due alla zero quindi n poi iterazione seconda iterazione parto da zero quindi la seconda iterazione è a indice uno n diviso due alla i alla seconda iterazione io considero n mezzi elementi alla terza iterazione indice i uguale a due considero due alla due quattro n quarti elementi e così via ma questa cosa si fermerà si fermerà quando i miei n diviso due alla i elementi sono troppo pochi in particolare un po' come nel caso della ricorsione poi vi spiegherò perché è tornata la ricorsione in questo momento un po' come la ricorsione ci dobbiamo fermare quando ci si ferma questo ciclo si ferma quando il range di dati non è più valido quindi quando il numero di dati la dimensione del sotto arre che è n diviso due alla i o è uguale a zero o vi fermate un attimo prima cioè quando c'è un solo elemento quindi quando abbiamo dimezzato talmente tante volte che ormai siamo arrivati a un insieme di un solo elemento e allora questa ragazzi è un'equazione esponenziale n diviso due alla i uguale a uno allora qual è i? cioè qual è quel numero di iterazioni che nel caso peggiore rappresenta il numero massimo di iterazioni di questo ciclo? svolgendo questa equazione esponenziale si ottiene i uguale logaritmo in base due di n quindi la complessità nel caso peggiore della ricerca binaria iterativa è logaritmo in base due di n mi rendo conto che ho trascurato delle costanti magari non è uno per logaritmo in base due di n ma sarà un accesso qui un altro accesso qui un confronto qui una segnazione qui quindi quattro operazioni per ogni per ogni ciclo quindi sarà quattro logaritmo in base due di n ok? quindi a essere proprio precisi qua ci deve essere comunque una costante moltiplicativa però uno due tre quattro l'importante è che noi vediamo che c'è un termine di ordine logaritmo in base di due di n e non ce n'è uno n e badate che logaritmo in base di due di n è molto più piccolo di n n un miliardo è un miliardo n il logaritmo di un miliardo è 6 quindi il logaritmo è molto molto più piccolo e questo ci fa capire che la ricerca binaria è molto più efficiente della ricerca sequenziale ovviamente se l'ha riordinato cioè anziché controllarli tutti e se si è fortunato si è fortunato la ricerca binaria è sempre tra virgolette fortunata perché mal che va effettua un numero di iterazioni pari al logaritmo in base ai due di n che è una funzione che cresce molto lentamente quindi di un logaritmo di un miliardo e 6 logaritmo di mille miliardi e 9 capite che alla fine ragazzi per quanto sarà lungo stare in pochissimi passi io trovo l'elemento se c'è oppure non lo trovo l'analisi del caso medio è un po' complessa da fare perché non la voglio fare perché questo non ha proprio senso in questo caso il caso medio perché la complessità del caso peggiore è talmente accettabile positiva talmente buona che non ha nemmeno senso porsi l'analisi del caso medio e comunque se anche avesse avuto senso porselo e farsi le tre pagine di calcoli per arrivare a questa formulazione avremo scoperto che nel caso medio comunque c'è logaritmo in base 2 di n meno 1 che meno 1 è in antichia più 1 su n se n è uguale a un miliardo 1 su n è un termine ovviamente trascurabile quindi ancora una volta il caso medio ci dice in questo caso ci dice che la complessità è comunque dell'ordine di logaritmo in base 2 di n prima di passare alla prossima slide rispondo alla domanda che vi ho posto prima perché è tornata la ricorsione in questo discorso come mai noi nel fare il ragionamento sulla complessità di questo algoritmo abbiamo detto quando è che questo ciclo si ferma si ferma quando il range di dati su cui sta operando si diventa collassa un insieme di un solo elemento o addirittura di zero elementi a seconda di come avremmo noi voluto porre la condizione e questo ci ricorda la ricorsione perché la ricorsione si ferma quando non c'è più niente da fare i dati sono stati consumati tutti quanti ragazzi la similitudine sta nel fatto che la ricerca binaria nel momento in cui di mezza prende il vettore e lo divide in due prende e va in una delle due parti quella parte lo divide in due e così via questa suddivisione binaria di ogni array in due sottorray e in due sottorray in due sottorray è un albero e l'albero è una struttura ricorsiva come vi ho fatto vedere in natura diciamo con l'immagine la settimana scorsa e come vedremo nel corso quando parleremo di alberi di ricerca questo per dirvi che la ricerca binaria è un algoritmo intrinsicamente ricorsivo perché sfrutta proprio il concetto di è definito in funzione di se stesso come funziona la ricerca binaria dividi in due vai nel mezzo quindi dividi in due vai nel mezzo se è quello bene altrimenti vai a dire a sinistra e poi di nuovo vai nel mezzo dividi in due eccetera quindi è un algoritmo definito in funzione di se stesso anche se voi qua non vedete la chiamata ricorsiva questo è concettualmente un algoritmo ricorsivo quindi la ricorsione esiste in natura anche nella natura dell'informatica la ricerca binaria è un algoritmo che per sua natura sfruttando la divisione di un albero è ricorsivo lo possiamo certamente scrivere in maniera iterativa ma è un algoritmo ricorsivo chiuso parentesi ne faremo tanti gli algoritmi ricorsivi poi diremo perché questo algoritmo daremo un'altra motivazione per cui questo algoritmo è ricorsivo quando parleremo di tecniche di programmazione bene a questo punto cosa dobbiamo mettere insieme dobbiamo mettere insieme i pezzi del puzzle che abbiamo che abbiamo messo sul tavolo tra ieri e oggi abbiamo detto che ci serve un modello di complessità per predire l'esecuzione il tempo di esecuzione di un algoritmo abbiamo detto che non ci interessa il tempo in secondi perché dipende dalla particolare architettura abbiamo detto che ci interessano quindi i passi di calcolo e che adesso siamo in grado tramite l'analisi soprattutto del caso peggiore di dire nel caso peggiore quanti passi di calcolo impiegherà quel dato algoritmo adesso cerchiamo giusto per chiudere il cerchio e tornare quindi all'esempio che vi ho fatto vedere ieri all'inizio cioè quegli algoritmi di ordinamento che alcuni impiegavano millisecondi o decimi di secondo altri impiegavano o decine di secondi se raffrontati ai millisecondi dei primi o ore se raffrontati ai decimi di secondo dei più veloci cioè c'era una sostanziale divisione tra i veloci e i lenti quindi quello che voglio introdurre adesso sono le classi di complessità cioè appare evidente ma appariva ieri proprio all'inizio della lezione senza nemmeno definire tutti questi strumenti matematici che gli algoritmi si dividono in classi cioè ci sono nel caso dell'ordinamento quelli che impiegano sul mio calcolatore decimi di secondo e quelli che impiegano ore capito? la differenza dell'ordine di grandezza come facciamo a capire questo? supponiamo che un passo di calcolo venga eseguito in un microsecondo ora voi mi dite e vabbè magari adesso stiamo usando dei calcolatori più veloci rispetto a quando questa consolidazione è stata fatta anziché impiegare un microsecondo impiega un nanosecondo ma vi assicuro che anche se noi mettiamo un nanosecondo qui questa tabella non cambia nella sostanza vediamo perché adesso supponiamo che queste che abbiamo a sinistra siano le tdn cioè i tempi di calcolo di algoritmi ora non è interessante sapere quali algoritmi di quali problemi stiamo parlando quindi abbiamo una radice di n abbiamo n più 5 2 per n n quadro n quadro più n n cubo e 2 alla n quelli che sono riportati sulla tabella sono i tempi di esecuzione previsti se diciamo che ogni passo di calcolo impiega un microsecondo per n uguale 10 per n uguale 100 per n uguale 1000 e per n uguale un milione come è successo ieri se noi prendiamo diversi algoritmi e li facciamo girare su un'istanza piccola del problema molto probabilmente noi non osserveremo alcuna differenza infatti questi sono microsecondi microsecondi sì decimi 10 per microsecondi questi sono stiamo arrivando ai millisecondi ragazzi ma alla fine chi se ne accorge chi se ne accorge che passiamo da microsecondi a millisecondi in carità ci sono contesti se stiamo facendo cronometri se stiamo parlando di formula 1 ce ne accorgiamo però normalmente non ci accorgiamo di queste cose se parliamo di risposta verso un umano in interazione con un umano non ci accorgiamo di questi tempi ma se andiamo a destra n uguale 100 n uguale 1000 n uguale 10 alla 6 ci accorgiamo che le piccole differenze che ci sono tra questi algoritmi diventano sempre più grandi e questi algoritmi vengono partizionati in classi di complessità avviene naturalmente questa cosa perché radice di n si attesta sui millisecondi quando n uguale a un milione n più 5 e 2 più n e 2 per n questo sarebbe il doppio di questo ma si attestano comunque nell'ordine dei secondi quindi già ci sta qua un enorme gap da millisecondi a secondi poi ci sta n quadro ed n quadro più n n quadro e n quadro più n impiegano settimane siamo passati da secondi a settimane poi ci sta n cubo e 2 alla n n cubo impiega secoli siamo passati da settimane a secoli e addirittura 2 alla n che sembra una cosa innocente n è un milione non è chissà che numero 2 alla n se n è un milione è pari ad un numero di secoli che supera di gran lunga l'età dell'universo quindi per eseguire un algoritmo su un'istanza di dati di un milione che ha complessità 2 alla n ipotizzando che un passo di calcolo è 10 alla meno 6 voi mi dite abbiamo un super computer adesso impiega 10 alla meno 9 va bene che cosa cambia qua dentro? che questo esponente diventa un poco più piccino ma diventano ancora sono ancora un numero di anni di secoli che supera di gran lunga l'età dell'universo quindi torniamo a quello che vi ho detto ieri all'inizio lo scopo di questa parte è caratterizzare gli algoritmi buoni da quelli non buoni l'efficienza degli algoritmi perché per quanto noi stiamo usando i computer più potenti del mondo e anche immaginando di metterli tutti insieme cooperando comunque un tempo di questo tipo non lo abbattete più di tanto lo abbattete questo esponente potrebbe diventare da 300.000 potrebbe diventare 290.000 ma comunque stiamo parlando di un tempo inimmaginabile e impraticabile cioè un algoritmo che ha questa complessità nemmeno fra 100 anni voi lo riuscite a far girare su tutti i computer del mondo nemmeno fra mille anni ma non lo so andando avanti nel tempo non posso certo dire che non accadrà mai ma ragazzi stiamo parlando di qualcosa di non proprio concepibile da un punto di vista umanamente non concepibile quindi quello che emerge in questa tabella è che gli algoritmi si dividono in classi di complessità cioè dire che un algoritmo ha complessità radice di n è molto diverso da dire che ha n più 5 però dire che ha n più 5 non è così diverso da dire che ha 2 per n perché alla fine sempre di secondi si tratta capito? quindi quello che sto dicendovi è che il fatto che appaiono delle costanti additive delle costanti moltiplicative non ci sposta nulla e lo stesso si vede qui passare da n quadro a n cioè un termine di ordine di grandezza inferiore rispetto a quello più grande manco si vede nel computo del tempo di esecuzione quindi quello che conta è il termine di ordine più grande che appare nel tempo di complessità e questi termini di ordine più grande sono importanti perché sono questi che determinano il comportamento per n grande cioè il comportamento asintotico quindi quello che ci interessa non è il comportamento per n piccolo ci interessa il comportamento per n grande perché nella realtà ci si scontra spesso con problemi grandi quindi noi dobbiamo considerare quando calcoliamo le nostre tdn non tanto i termini di ordine inferiore le costanti additive o moltiplicative o additive o moltiplicative o i termini di ordine inferiore ma ci interessano solamente i termini di ordine superiore quindi quello che stiamo per introdurre adesso è una notazione chiamata asintotica che serve appunto per dire io delle costanti me ne frego però per dire questo bisogna parlare il linguaggio della matematica non posso dire in italiano togli le costanti però nella pratica è questo quello che succede quindi vi voglio subito dire non spaventatevi delle piccole formulette che adesso andiamo a discutere perché quello che conta la sostanza di queste formule è che io vado a togliere tutte le costanti che appaiono nella mia tdn le costanti additive le costanti moltiplicative e gli elementi di ordine inferiore questo significa notazione asintotica ci interessa il termine di ordine superiore non ci interessano quelle di ordine inferiore non ci interessano le costanti né moltiplicative né additive una volta che facciamo questo lavoro allora le classi di complessità emergono in maniera pulita non esiste più n quadro più n non esiste una classe di quel tipo esiste n quadro quindi esiste la classe di complessità n quadro la classe di complessità n quindi questi li chiamiamo quadratici questi li chiamiamo lineari questi li chiamiamo radice di n che ne so radicali come volete chiamare questi li chiamiamo logaritmici complessità logaritmica e cos'è o di 1 o di 1 è quando non appare proprio n quindi complessità diciamo in quel caso complessità costante e questi sono gli algoritmi più veloci di tutti che indipendentemente dalla dimensione dei dati d'ingresso sputano fuori il risultato in o di 1 come è possibile questo esistono algoritmi in grado di fare questo sì esistono e vedremo anche qualche esempio bene in questi ultimi dieci minuti in maniera sommaria ma poi lo riprendiamo ovviamente la prossima volta vi voglio introdurre in maniera ripeto non troppo matematica la notazione asintotica perché ripeto l'obiettivo è solamente quello di buttare fuori le costanti quindi data una fdn che cos'è una fdn? data una funzione che per esempio n quadro più n quindi qua al posto dell'fdn noi diciamo ci va la tdn quindi hai calcolato la tdn in maniera analitica dal codice hai tutte quelle belle costanti le hai volute tenere? bene adesso io voglio che tu le butti fuori quelle costanti quindi tu mi devi dire che la tua tdn è una o grande cioè asintoticamente si comporta come quello che sta qua dentro quindi n quadro più n si comporta asintoticamente come n quadro però questa cosa la devo dire in matematica quindi come faccio a dire che asintoticamente si comporta questa si comporta come quella che c'è qua dentro? devo dire che esisterà una certa costante moltiplicativa e ce la metto sulla gdn ed esiste una certa n zero punto di partenza cioè da un certo n in poi per una certa costante moltiplicativa io devo essere sicuro che la mia gdn approssima per eccesso la mia fdn cioè devo essere sicuro che asintoticamente per dire che la mia fdn si comporta asintoticamente come la gdn la o grande è una notazione che codifica il caso peggiore che è quello che vi ho detto che ci interessa se noi vogliamo fare un'analisi del caso peggiore dobbiamo dire che la nostra fdn la dobbiamo maggiorare questo è lo scopo maggiorare significa che da un certo n zero da un certo n in poi la nostra gdn pur moltiplicata per una qualunque costante moltiplicativa anche centomila dobbiamo essere sicuri che da quel punto in là sta al di sopra della nostra fdn allora diciamo che la nostra fdn si comporta asintoticamente come gdn perché è necessaria questa costante moltiplicativa perché è necessario n zero perché ragazzi per esempio se io dico n quadro più n non è vero che n quadro più n sta al di sotto di n quadro in qualunque caso soprattutto se stiamo nella parte sinistra di n anzi n quadro più n sta sopra n quadro all'inizio quindi è necessario introdurre questo grado di libertà per far sì che questa approssimazione abbia un senso matematico quindi per dire che a noi non interessano i termini di ordine inferiore per dire che a noi non interessano le costanti dobbiamo introdurre una maggiore azione che sfrutta un grado di libertà ovvero la costante moltiplicativa c è un certo punto di inizio quindi ragazzi questa non è altro che una maggiorazione asintotica di fdn tramite gdn e la maggiorazione asintotica avviene tramite una qualunque costante che uno può scegliere e un qualunque punto di innesco un qualunque punto di interesse ora e poi termino la lezione qui perché non voglio confondervi le idee con queste altre due notazioni non vi sto dicendo attenzione quando andrete a ristudiare queste slide a me è capitato che i studenti mi chiedessero quindi noi quando abbiamo un algoritmo se lei ci chiede la complessità noi dobbiamo calcolare la tdn con tutte quelle costanti poi dobbiamo applicare questa notazione che significa che dobbiamo noi andare a trovare una costante c e un n0 tali che la nostra c per gdn maggiore sta sopra fdn e come faccio a trovarle? adesso vado a tentativi come da dove inizio? ragazzi io quello che vi sto dicendo è che non serve farlo questo che sto presentandovi è soltanto un supporto matematico ad una cosa che in realtà sarà molto più ovvia e facile quasi a occhio non lo facciamo anzi senza quasi ragazzi n quadro più n prendete il termine di ordine superiore ci levate la costante e quella è la vostra o grande semplice sì si può dimostrare matematicamente che scegliendo una certa c scegliendo un certo n0 è vero che c per n quadro è più grande di n quadro più n ma questo se ci chiedo di dimostrarlo nessuno vi chiede di dimostrarlo perché a noi interessa la pratica ci interessa capire che un algoritmo è un ha una complessità o grande di n quadro o grande di n a prescindere dal fatto che ci sia più 5 o 2 n o grande di radice di n o grande di n a cubo o grande di 2 all'n cioè a noi interessa il termine di ordine superiore non solo vediamo se non è ancora il momento di introdurre questi concetti quindi terminiamo le lezioni qui come promesso non voglio prendere le lezioni troppo complicate altrimenti non le posso chiamare pillole quindi oggi abbiamo imparato che le tdn che abbiamo imparato ieri che erano analiticamente definite con costanti moltiplicative additive perché venivano provenivano da un'analisi precisa dettagliata del codice adesso vi dico che con la notazione o grande noi buttiamo via tutti i numeri e ci rimane soltanto il termine di ordine superiore questo termine di ordine superiore ci dà un'idea della complessità asintotica dell'algoritmo cioè ci fa capire che un algoritmo che ha una complessità quadratica ovviamente è peggiore di un algoritmo che ha una complessità lineare nel mezzo qua ci sta n log n n log n sta tra questi due quindi poi vedremo la prossima lezione come mai allora bubble sort insertion sort e selection sort come mai tra virgolette sono così peggiori rispetto agli altri algoritmi che si possono usare per l'ordinamento bene la lezione termina qui e rimango ovviamente disponibile per domani